Quattro anni fa ero quasi disoccupato. Un vagabundo, senza dimora. Ma ora sono un marito e un padre. E non c'è niente che cambierei. Non so come hai fatto, papà. Il mio lavoro era meno stressante del tuo. Ah, sì. Alla fine ho trovato un lavoro. Sono il re di Atlantide. Per mezzo miliardo di creature, di ogni specie consciuta nel mare, questa è casa. Ma non piaccio a tutti. Ucciderò Aquaman e distruggerò tutto ciò che ama. Sterminerò la sua famiglia. E ridurrò il suo regno in cenere. Deve essere fermato. O presto ci sarà un crollo totale. Conosco qualcuno che può aiutarci. Sei messo male. Bravo, fratellino. Dammi il cinque. Non chiamarmi. Fratello. Hai lasciato che accadesse, incredibile. Sì, beh, odio questo lavoro. Un vero re costruisce punti. Un vero re costruisce punti. Dobbiamo trovare Manta. È diverso ora. È più forte di prima. È il tridente nero. Ai tempi di re Atlan c'erano sette regni. E il tridente fu una maledizione per tutti e sette. la magia nera del tridente si diffonde. Vuole porre fine alla stirpe. Non so cosa succederà, ma non possiamo lasciare ai nostri figli un mondo senza speranza. Non sei così male in questo lavoro. Se comandi tu, i sette regni ti seguiranno. Credo. Allora. Grazie per la visione!